All the forgotten things, this is your glad, telly up! One, two, three, four, all the fingers on my hand, all the G's in their stand. Il 5 e il 6 ottobre torna l'Orchidea dell'Unice, fa molti bambini servono un segno di orchidea per diventare grandi. Sì, è proprio questo il messaggio che quest'anno vogliamo far passare. Non troverete più l'Orchidea classica, la quale costava anche un pochino di più e fra l'altro era deperibile. Questa volta è proprio il seme con una tazza colorata della serie della Pimpa, gentilmente concessaci dal disegnatore. Questo seme praticamente deve crescere, non basta più ormai far nascere un bambino, ma bisogna farlo crescere, accompagnarlo in questo suo sviluppo. Questo è il messaggio che l'Unice vuole proprio mandare oltre, cioè bisogna andare oltre. Dov'è possibile acquistare l'Orchidea, il seme di Orchidea? Il seme di Orchidea con la sua bella tazza colorata è possibile in Piazza Martiri della Libertà, appunto questa fine settimana, il 5 e il 6. Saremo presenti il 6 in ospedale e poi sarà a Tortoreto, sarà a Montepagano di Roseto, a Martinsicuro, cioè basta collegarsi sul sito dell'Unicef e avrete le piazze esatte. A molti bambini serve un seme di Orchidea per diventare grandi. Ogni giorno 19.000 bambini muoiono per malattie prevenibili e curabili. Per donargli le cure necessarie a sopravvivere, ti aspettiamo il 5 e 6 ottobre in mille piazze italiane con i semi di Orchidea Unicef.